Cari amici roditori, benvenuti nel mondo di Geronimo Stilton! L'Isola del Tesoro Fantasma Quella mattina stavo lavorando tranquillo nel mio ufficio quando... Oh, scusate, non mi sono ancora presentato. Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton. Dirigo l'Eco del Roditore, il quotidiano più famoso dell'Isola dei Topi. Dunque, stavo lavorando tranquillo quando entrò in ufficio mia sorella Thea, l'inviato speciale dell'Eco. Lei mi strizzò l'occhio e squittì furbetta. Dai, Geronimo, molla tutto e partiamo per una vacanzuccia. Ci sarà da divertirsi. Io sfogliai la mia agenda e scossi la testa. E in questo periodo sono molto impegnato. Lei sbuffò. Uffa, 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 non fare il guastafeste come al solito. Ci saranno anche trappole, Benjamin. Manchi solo tu. Proprio allora arrivò Benjamin. Zietto, hai sentito la notizia? Andiamo in vacanza! Io mi arresi. E va bene. Che ne dite di una settimana riposante in mezzo alla natura, alla pensione Rattini sulla riviera dei Sorci? C'è un bel giardino di limoni e aranci. Lei mi strizzò l'occhio. Ma che pensione Rattini! Quella è roba per mammolette! Ti porterò alle isole piratesse! Spiagge candide, acqua limpida, giungla popolata da animali selvaggi, tigri, ripitoni, tarantole gigantesche! Io esitai. Le spiagge candide e l'acqua limpida mi attirano. Ma tutti quegli animali selvaggi non saranno pericolosi? Tea ridacchiò. Ma va là! Sei il solito fifone! Il tempo di fare le valigie ed eravamo già all'aeroporto internazionale di Topazia. Iniziai a leggere una guida dettagliata delle isole piratesse. Mi piace essere informato sui luoghi che visito. C'era anche un inserto sui pirati che avevano abitato l'arcipelago. E la descrizione dei posti da visitare. Alcuni isolotti sono disabitati, come poco cocco, su cui cresce un unico albero di cocco. Occhio alla pinna, le cui spiagge sono infestate da squali feroci. Un posto deserto nel mezzo del nulla, piccolissima e sperduta. E infine, la più lontana e selvaggia di tutte, l'unica che nessun aereo sorvola mai, e dove mai nessuna nave fa scalo, e dove mai nessuno si sognerebbe di andare. L'isola di Toc Flop, dove vivono numerosi gli uccelli Schaff. Qui, secondo la leggenda, un pirata nascose un tesoro proprio sul... Geranimo! Udi chiamare. Era mia sorella Thea. Dai che si parte! Sbrigati! Sospirai. Arrivo! Che maniere! Infilai la guida nello zaino e salì sull'aereo. Trappola borbottò. Geronimo è il solito ritardatario, sempre con il muso incollato a un libro. Tredici ore dopo l'aereo atterrò all'aeroporto di Tesor del Pirata, nell'isola di Giù le Zampe d'Alloro. Un piccolo idrovolante ci stava aspettando per condurci su un'altra piccola e sperduta isoletta. Attenti ai baffi che arrivo! Arrivò ciondolando il nostro pilota privato. Cionfolone pussa via, detto Smamma. Ciao, fratello! Mi salutò indolente rosicchiando patatine. Era un tipo, anzi, un topo piuttosto bizzarro. Portava un paio di occhialetti neri. Il suo corpaccione ciccioso era impacchettato in un vistosissimo camicione giallo, su cui erano stampati cuoricini rossi trafitti e bermuda viola sdruciti. A tracolla, una borsettina lavorata a uncinetto piena di popcorn. L'orecchio destro era smozzicato, quasi gliel'avesse addentato un felino, e al sinistro portava una collezione di orecchini d'argento. Cionfolone mi tirò una pacca sulla spalla che mi fece rintronare le tonsille. Poi borbottò rosicchiando popcorn. Pronto a partire, fratello? Cionfolone saltò nell'idrovolante con un balzo sorprendentemente agile. Poi appese al cruscotto una foto unta e bisunta con la scritta «Sono la mamma di smamma». Le mandò un bacino. «Ciao, mamma!» Poi borbottò. «Per mille cionfolazze scionfolanti! Non mi ricordo più come si fa a accendere! È da tanto tempo che non volo!» Io impallidì, ma lui rise fragorosamente. «Ci hai creduto, eh, fratello!» Chiesi sottovoce a mio cugino. «Non trovi il pilota un po' bizzarro? Non sarà pericoloso volare con lui?» Lui ridacchiò. «Ma va, tutti i piloti sono bizzarri! Guarda Thea, per esempio. Ti sembra forse normale lei?» Mia sorella strillò. «Come ti permetti?» Mentre tentavo di mettere pace tra trappola e Thea, cionfolone si affacciò al finestrino e urlò al meccanico che controllava il motore. «Pussa via, smamma!» Poi, a una velocità esagerata, si preparò a decollare. «Oh, che bello svolazzare! E la pelliccia rischiare! Ora decollerò! Chissà se atterrerò!» Il tempo si era rannubolato e chiesi a Thea. «Ehm, non sarà pericoloso?» Lei ridacchiò. «Io mi fido delle previsioni meteorologiche. Se dicono che si può partire, si può partire. Geronimo, sei il solito fifone!» Io lanciai uno sguardo dubbioso al cielo. Cionfolone si affacciò e urlò a tutti sulla pista. «Pussate via tutti, smammate!» Poi, con una manovra, secondo me, azzardatissima, diede gas e decollò. Appena fummo in aria, si battè una zampa sulla fronte. «Per mille bulloncini sbullonati! Ho dimenticato di fare il pieno di carburante!» Io mi sentì mancare, ma lui sghignazzò. «Ci sei cascato, eh, fratello!» Mi allungò una gomitata. «Per mille ero planuzzi sfrittellati! Ti spiace guardare fuori e controllare se l'elica sta girando? Ogni tanto si ferma!» Io balbettai. «Cosa, cosa, cosa?» Lui scoppiò in una risatona tonante. «Per mille alucce spiaccicate ci caschi sempre, fratello!» «Stavo per dirgliene quattro, anzi otto, anzi sedici!» Ma Benjamin mi sussurrò all'orecchio. «Lascia perdere, zio Geronimo! Non vale mai la pena arrabbiarsi!» Io sospirai. «Hai ragione, Benjamin!» Dopo un'ora di volo, il cielo si fece nero di nubi e l'idrovolante cominciò a sobbalzare, strattonato su e giù dalle raffiche di un vento impetuoso. Cionpolone guardò fuori e borbottò alla radio. «Torre di controllo, che novità ci sono sul tempo?» La radio gracchiò. «Qui, torre di controllo! È in arrivo una tromba d'aria che si sta dirigendo proprio verso di voi! Emergenza! Ripeto, emergenza!» Cionpolone impallidì. «Tea impallidì! Trappola impallidì! Benjamin impallidì! Io invece ero già pallido per la FIFA da quando eravamo partiti!» Cionpolone urlò. «Arriva la tromba d'aria!» Io strillai. «L'avevo detto io! L'avevo detto io che era pericoloso!» Il vento soffiava impetuoso, sbatacchiando l'idrovolante di qua e di là. Cionpolone urlò per farsi sentire al di sopra del vento che fischiava. «Tenterò un amaraggio di emergenza!» Improvvisamente, una raffica di vento più violenta delle altre travolse l'idrovolante e lo fece precipitare a muso in giù tra le onde blu. L'idrovolante si inabissò con un gorgoglio sinistro. Tentammo di aprire il portello, ma la pressione dell'acqua era troppo forte. Solo quando l'aereo fu pieno d'acqua riuscimmo ad aprirlo. Io inspirai a fondo, afferrai Benjamin per una zampa e mi gettai fuori. «L'acqua era gelida e mi tolse il fiato!» «Dovevo nuotare, ma verso quale direzione?» «Osservai le bolle d'aria del mio respiro. Seguendo la loro direzione, nuotai verso l'alto, tenendo stretta la zampina di Benjamin. «Finalmente sbucai fuori sputacchiando! Tutto bene, piccolino del mio cuore? Ce l'abbiamo fatta!» Squitì, accarezzandogli le orecchiette umide. Vicino a me affiorarono Thea e Trappola. Di cionpolone, nessuna traccia. Ci trovavamo davanti a un isolotto. Nuotammo fino a riva e ci sdraiamo esausti sulla sabbia. Stava per sorgere il sole. Io ero ottimista. «Il peggio è passato!» Trappola borbottò, lugubre. «Magari resteremo intrappolati qui per giorni, anzi settimane, anzi mesi, anzi anni, finché mi verranno le ragnatele e i baffi, mi si muffirà la coda e...» Thea, squitti. «Sopravviveremo lo stesso, da soli, contando sulle nostre forze!» Benjamin sorrise. «Sì, zia Thea, ce la faremo! Niente può fermare la famiglia Stilton!» Intrecciamo le code e gridammo in coro. «Niente può fermare la famiglia Stilton!» Ci dividemmo i compiti. Trappola si incaricò di procurare il cibo. Thea raccolse la legna per accendere un fuoco. Benjamin intrecciò dei gonnellini di foglie di palma. Io costruì un rifugio sotto un albero di Takamaka. Fu una giornata pesante. Il sole a picco ci arrostiva la zucca. Il vento soffiava impetuoso facendoci frullare i baffi. E avevo le zampe indolenzite per la fatica. Alzai lo sguardo per capire quanto mancava al tramonto. Quando una caccoletta mi piombò dritto sull'orecchio sinistro. Altre caccolette mi piombarono sull'orecchio destro. Il cielo si era riempito di uno stormo di uccelli dalle piume bianche, simili a gabbiani. I pennuti gracchiavano sfacciati. Per proteggerci costruimmo degli ombrellini di foglie. Quel rumore, Schaff, mi ricordava qualcosa. Ah, ecco! La guida delle isole piratesse parlava di uccelli Schaff che facevano il loro nido su un'isola che si chiamava Toc Flop. Conclusi. Ora capisco. Allora ci troviamo sull'isola di Toc Flop. Peccato non avere più la guida. Però mi ricordo tutto ciò che ho letto su piante e frutti commestibili. Trappola sbottò. Geronimo fa il sapientone! Thea, invece, mi fece i complimenti. Bravo, Geronimo! Meno male che tu avevi letto la guida. Quest'ora ci aiuta molto. Mi ricordai di avere letto un'altra cosa. Anticamente sulle isole piratesse si rifugiavano i pirati con galeoni carichi d'oro. Molti sono i tesori ancora sepolti. E molti anche i fantasmi. Per esempio, sull'isola deserta di Toc Flop vagherebbe il fantasma del famoso pirata Zampa d'Argento. Il suo galeone era celebre perché riusciva a scomparire improvvisamente e misteriosamente quando era inseguito dai nemici. Quella sera abbracciai Benjamin per proteggerlo e mi rannicchiai tra le foglie di palma tentando di dormire. Per farmi coraggio ripetei sottovoce. I fantasmi non esistono. I fantasmi non esistono. I fantasmi non esistono. Il giorno dopo decidemmo di esplorare l'isola. Ci avviamo lungo il sentiero di sabbia rossiccia. Qua e là si aprivano grosse buche. Vidi spuntare minacciosa una chela. Brrrr! Erano tutte tane di granchi giganteschi. Trappola che marciava dietro di me borbottò. Uff! Su quest'isola le mangrovie sono più fitte delle pulci sulla pelliccia di un gatto tignoso. Uffiti 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 squid che noia! Poi urlò a squarciagola. Geronimo! Qualcosa di viscido e appiccicaticcio mi si spiaccicò sul muso. Una sanguisuga! Geronimo hai una sanguisuga sul muso! Gridò Trappola. Aiuto! Ululai strappandomi via dal muso l'oggetto misterioso. Ma, 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 è un fazzoletto bagnato. Balbettai stupito. Trappola mi saltellava intorno ridendo a crepapelle. Sei più babbeo di un'acciuga! Ci hai creduto alla sanguisuga? Lo rincorsi. Se ti acchiappo, te la do io, la sanguisuga! Trappola corse via ridacchiando. Si voltò per farmi marameo, ma improvvisamente impallidì. Geronimo, resta fermo, non muoverti. C'è un granchione gigantesco dietro di te. Io sbuffai. Figuriamoci se ci credo. Sarà uno dei tuoi soliti scherzi. Mio cugino, a occhi sbarrati, mormorò. Non sto scherzando, Geronimo. Il granchio c'è davvero. Parola d'onore di roditore. Io ridacchiai. Ma figuriamoci. Mi girai e vedi un granchio gigante. Anzi, enorme. Anzi, immenso. Un mega, mega, mega granchio alto almeno tre piani e mezzo. Cercai di mantenere la calma. Feci un passettino indietro, poi un altro e un altro ancora. Il granchio mi fissava con occhietti piccoli e cattivi. Gettai un'occhiata dietro di me. Mancavano pochi metri alla salvezza. Ancora qualche passo indietro e avrei potuto tuffarmi in acqua per fuggire via. Improvvisamente, mio cugino starnutì. Il granchio, rapidissimo, allungò una chela e mi afferrò, sollevandomi in aria. Aiuto! Urlai a testa in giù. Da dietro a uno scoglio, sbucarono Thea e Benjamin. Cerca di resistere, Geronimo. Veniamo a salvarti. Thea spruzzò negli occhi del granchio la sua bomboletta di profumo. Il granchio, accecato, agitò le chele facendomi roteare in aria, mentre io urlavo terrorizzato. Squiiiip! Trappola gli tirò una noce di cocco sulla zucca e lui barcollò, rintronato. Infine, Benjamin gli fece il solletico alle zampe con una piuma di gabbiano. Il granchio ridacchiò e mi mollò di colpo lanciandomi a una velocità folla in direzione degli alberi. Finii dritto dritto in un nido di Starna. Aiuto! Ero circondato da uccellini dal becco spalancato. Mamma Starna arrivò proprio in quel momento con un grosso, grasso verme nel becco. Apri la bocca per gridare Voglio scendere! Ma lei, svelta, mi imbeccò con il verme. Io lo sputai disgustato. Non sono un cucciolo di Starna. Il mio nome è Stilton. Geronimo Stilton. Scesi dall'albero e s'inghiozzai disperato. Per mille mozzarella e non ne posso più. Voglio tornare a casa. Io volevo una vacanza tranquilla alla pensione Rattini. Dopo il tramonto ci coricammo ma a mezzanotte mi svegliai con un sobalzo. Odì un rumore molto bizzarro. Toc! Flop! Toc! Flop! Toc! Flop! Pareva il rumore di qualcuno che camminava con una gamba di metallo e una gamba vera. Benjamin sussurrò spaventato. Forse è il fantasma, zio! Io gli strinsi forte la zampetta. Topino del mio cuore andrà tutto bene, vedrai. Cautamente oh, molto molto cautamente zampettai verso la spiaggia. qui trovai delle strane impronte. Quatto come un ratto mi appostai dietro un cespuglio di felci. Vidi un'ombra grande e grossa che stava rosicchiando una noce di cocco. Mi sporsi per vedere meglio. La noce di cocco mezzo rosicchiata mi colpì sulla zucca. Svenni! e quando mi ripresi lui se n'era già andato. La notte successiva il fantasma si fece di nuovo vivo. Lo udì ciabattare sugli scogli. mi avvicinai cautamente e vedi un'ombra che rosicchiava un granchio arrostito. Mi sporsi per vederlo meglio. Il guscio del granchio mi beccò in pieno sulla capoccia. Quando rinvenni lui era già scomparso. La notte dopo mi appostai sulla spiaggia. Stavolta volevo proprio sorprendere il fantasma. A mezzanotte in punto lo udì arrivare. Tac flop tac flop tac flop Aguzzai la vista per distinguere l'ombra che stavolta rosicchiava un frutto di mango. Mi affacciai gridando Chiunque tu sia in alto le zampe arredditi! In quel momento proprio in quel momento il nocciolo del mango mi beccò esattamente in mezzo agli occhi. Andai giù come un birillo quando rinvenni il fantasma era chino su di me. Un raggio di luna lo illuminò e riconobbi un muso familiare. Il fantasma chinandosi su di me urlò a squarciagola Ciao fratello! Lo guardai meglio Sì era proprio lui era Cionfolone pussa via detto smamma Terrorizzato balbettai Ma non è possibile tu non eri non eri non eri ma allora sei un fantasma svenni quando rinvenni spalancai gli occhi e urlai di nuovo fantasma cionfolone ridacchiò soddisfatto fratello ma che fantasma è fantasma lo osservai meglio ma certo quello era proprio cionfolone ed era vivo quando l'idrovolante è affondato mi sono aggrappato all'elica di legno che galleggiava poi le onde mi hanno portato a riva perché non ti abbiamo visto chiesi perché mi ero accampato dall'altra parte dell'isola si ficcò in bocca un ananas intero buccia e tutto e lo masticò rumorosamente io non capivo ancora ma perché si udiva quello strano rumore toc flop toc flop toc flop lui indicò una stampella ricavata da un tubo di metallo dell'idrovolante durante il naufragio mi sono slogato una caviglia così per camminare devo appoggiarmi a una stampella saltellò su e giù toc flop toc flop toc flop io mi grattai la testa così tutto si spiega il fantasma il rumore la stampella quella sera festeggiamo con una cena il ritorno di cionfolone assaggiai un'ostrica ma lanciai un urlo sbarrai gli occhi nell'ostrica c'era una perla una grossa perla che mi aveva scheggiato un dente tea rapida aprì le altre ostriche una dopo l'altra ciascuna conteneva una perla a trappola brillavano gli occhi dall'eccitazione mi ci gioco la coda torneremo ricchi straricchi a topazia wow la mattina dopo trappola mi svegliò all'alba geronimo andiamo a pescare io sbadigliai assonnato e va bene arrivammo sulla spiaggia le ostriche di ieri sera le ho trovate vicino a riva ma non ce ne sono altre tu dovrai pescare là dove il mare è profondo spiegò trappola perché dovrò tu non vieni con me trappola ridacchiò siamo o non siamo una squadra allora ci dividiamo i ruoli tu nuoti ti lascio il compito più facile mentre io rimango sulla spiaggia a organizzare il tuo lavoro mi infilai a tracolla un cesto di vimini e mi tuffai l'acqua era gelida e trasparente nuotai giù sempre più giù verso il fondo del mare finalmente a circa 20 metri dalla superficie vedi decine centinaia migliaia di ostriche attaccate agli scogli del fondo ne staccai un bel poco nel coltello le infilai nel cesto e risalii verso la superficie ritornai a galla e respirai a lungo vedi da lontano che trappola mi faceva degli strani gesti gridava qualcosa che non riuscivo a capire io ero stupito chissà che cosa c'entrano le ali boh mi girai e vedi una pinna di squalo allora udì mio cugino gridare squali iniziai a nuotare a una velocità folle ero ormai vicino alla riva ma anche lo squalo era vicino troppo tentava di addentarmi con le enormi mandibole dai denti affilati come rasoi udì un urlo ci penso io fratello cionpolone si tuffò a bomba dallo scoglio più alto mi sfiorò e precipitò dritto dritto sul cranio dello squalo mandandolo a nanna continuai a nuotare e arrivai sulla spiaggia tanto di volata chiarai un solco nella sabbia balbettai per poco diventavo ciccia per gatti trappola ridacchio e mi corresse ciccia per squali casomai quella sera cionpolone e io andammo a prendere l'acqua alla piccola cascata dietro al nostro accampamento alla luce della luna la sabbia attorno alla cascata risplendeva come per magia raccolsi una manciata di sabbia e capì che si trattava di cristalli di quarzo stavamo per ritornare indietro quando udimmo delle voci ci sporgemmo curiosi dalla scogliera e vedemmo un canotto malandato che si avvicinava alla spiaggia alla luce della luna distinsi due tipi anzi due topi piuttosto bizzarri il primo era piccoletto e mingerlino con grossi denti sporgenti l'altro era tondo e ciccioso alle zampe aveva pinne gialle legate con l'elastico e una maschera di vetro scheggiata era lui a remare intanto canticchiava caccia qua caccia la parapà parapà papà siamo cacciatori di tesori per trovare gioiagliori ne faremmo di tutti i colori guai a chi ci vuol fermare lo potremmo smiappacchiare il ciccioso saltellò come uno ioio con il singhiozzo guai a chi ci ferma vero capitano cap itano noi lo snappacchiamo il capitano sbuffò rima chi chiacchierone il ciccioso continuò a ruota libera doveva essere un gran chiacchierone non dobbiamo dire a nessuno che abbiamo trovato una mappa del tesoro vero capitano intanto sventolava una mappa ma soprattutto non dobbiamo dire che il tesoro è nascosto sotto una roccia a forma di cannone vero capitano il capitano tuonò ciccio capitano dove sarà il tesoro dove sarà dove sarà capitano basta tuffati anzi che chiacchierare controlla se la roccia è qua sotto altrimenti scendiamo a terra e cerchiamo follicola il ciccioso si tuffò pochi minuti dopo riemerse sputacchiando niente roccia a forma di cannone il capitano si grattò la zucca allora straccheremo sull'isola il ciccioso sghignazzò e se c'è qualcuno sull'isola che ci vuole grattare il tesoro noi gli faremo vedere i sorci verdi vero capitano sussorrai a cionfolone che facciamo ora lui gettò via un torsolo di ananas e si pulì il muso su una larga foglia di banano fratello vuoi che ci pensi io vuoi che io gli faccia il trattamento cionfolo chiesi stupito trattamento cionfolo lui sghignazzò trattamento cionfolo prima li sbabbicchio poi li sniacchero poi li scubidolo poi gli sbaffo i baffi poi gli spelliccio la pelliccia poi gli scodo la coda poi io scossi la testa niente violenza dobbiamo solo fare in modo che se ne vadano cionfolone si illuminò aspettami qui fratello i due intanto erano arrivati sulla spiaggia e avevano tirato in secco il canotto il capitano ordinò perfino finisse avanti in marche il ciccioso si tolse pinne e maschera accese una lampada a petrolio e prese una vanga ora i due stavano già avviandosi lungo il sentiero ma dov'era cionfolone? udì un fruscio e mi voltai nella penombra uno spettro candido come la neve mi si materializzò davanti ululando buh pussa via smamma aprì la bocca per urlare ma mi si erano paralizzate le corde vocali lo spettro bisbigliò soddisfatto ti ho convinto eh fratello prima che io potessi dire una sola parola cionfolone perché proprio di cionfolone si trattava galoppò giù per il sentiero ululando pussate via smammate i due quando lo videro urlarono un fantasma si precipitarono giù per il sentiero saltarono sul canotto e remarono via senza girarsi il fantasma si girò verso di me e rosicchiò una papaya come sono andato fratello? spiegò orgoglioso mi sono rotolato nella sabbia di cristalli di quarzo che fettone vero fratello? mi accorsi che i due fuggendo avevano smarrito la mappa del tesoro su cui era scritto sotto la roccia a forma di cannone si trova il tesoro c'era veramente un tesoro da quelle parti decidemmo di dare un'occhiata lui avrebbe esplorato la zona a sinistra del sentiero io quella a destra mi avventurai tra i cespugli di felci e le piante di banano notai una strana roccia a forma di cannone ricoperta di muschio e piante rampicanti mi ci arrampicai sopra alla luce della luna notai un'incisione su una lapide era una strana filastrocca mi avvicinai curioso la lessi ad alta voce ti fa gola il mio tesoro ti lecchi i baffi all'idea dell'oro se il tesoro vuoi trovare il cervello devi usare niente è mai come ci appare questo devi ricordare ciò che è in alto scende in basso soprattutto se sei grasso ciò che è in basso sale in alto basta che tu spicchi un salto se sei solo sei nei guai sì preoccupati ai 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 siete in due così va bene finché l'equilibrio tiene alto o basso su o giù or ci sei or non più notai anche una pietra triangolare con sopra una lastra di pietra mi ci si è detti sopra per meditare ma la pietra oscillò e si spostò rivelando un buco incuriosito ci entrai la roccia oscillò e tornò nella posizione iniziale bloccato come un sorcio in trappola io strellai aiuto intanto cionfolone era ritornato ci abbattò intorno alla roccia dove sei fratello? io urlai qui sotto otto? che c'entra l'otto? nella botola ciotola? quale ciotola? siediti sulla roccia saccoccia? che cos'ha in saccoccia? finalmente lui si sedetti sulla roccia e l'apertura della botola si aprì io saltai fuori con un sospiro di sollievo lui gruffolò eri lì sotto eh perché non l'hai detto subito fratello? mi sedetti sul bordo della botola e mi asciugai i baffi sudati uff stavolta credevo proprio di lasciarci la pelliccia cionfolone era curioso che cosa c'è l'assutto fratello scendiamo dai incastrò un pezzo di legno nella botola perché la roccia non potesse più richiudersi visto ora possiamo scendere sfregò tra loro due piccoli frammenti di selce aspettò che scoccasse una scintilla e appiccò il fuoco a una foglia poi si sfilò dalla tasca una candela e la accese se là sotto c'è davvero un tesoro voglio che siano presenti anche te a trappola e benjamin tornai indietro a chiamarli poi tutti insieme entrammo nella botola da cui partiva una stretta scala scavata nella roccia scendemmo 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 lentamente uno scalino dopo l'altro il primo della fila era cionfolone che reggeva la candela la fiamma ondeggiava gettando sulle pareti strani inquietanti bagliori che paura che fifa che strizza trappola borbottò ci manca tanto la sua voce rimbombò paurosamente finalmente giungemmo in fondo alla scala improvvisamente udì un fruscio un soffio di aria gelida mi fece accapponare la pelliccia e delle ali morbide tiepide e pelose mi sfiorarono il muso un pipistrello anzi un pipistrellone gigante strillai terrorizzato il pipistrello tentò di fuggire ma i suoi artigli si impiglierono nella mia pelliccia aiuto urlai udì la vocina di benjamin resisti zio geranimo ti aiuto io in un baleno districò il pipistrello dai ciuffi della mia pelliccia e finalmente il poverino poteva volare via uff grazie benjamin balbettai poi impallidì per mille mozzarelle chissà se mi ha fatto la pipì in testa arrivo tea che mi scrollò 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 tranquillo ti faccio rinvenire io geranimo arrivo trappola che mi prese a schiaffotti tranquillo ti faccio rinvenire io geranimo arrivò cionfolone che mi tirò un secchio di acqua gelata sul muso tranquillo ti faccio rinvenire io geranimo io strellai esasperato sto benissimo 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 lo volete capire? ma hai sentito meglio? in quel momento proprio in quel momento mi cadde una stalattite sulla testa e cadde a terra svenuto quando rinvenne i borbottai oi 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 la mia testa me la tastai c'era un bernoccolo grosso come una mozzarella tea trappola e cionfolone gridarono in coro ti serve aiuto geranimo mi affrettai a rispondere no benjamin si mise al mio fianco appoggiati pure a me zio geranimo con l'aiuto di benjamin ripresi a scendere scalino dopo scalino ancora alcuni scalini poi il passaggio da buio iniziò a illuminarsi proseguimmo incuriositi la luce diventava sempre più intensa finalmente arrivammo in fondo tutti gridammo il passaggio di pietra sboccava in una immensa caverna marina sotterranea le pareti erano composte di quarzo scintillante alzai gli occhi e fissai il soffitto era costellato di cristalli enormi ma la sorpresa maggiore era un'altra al centro della caverna galleggiava un enorme galeone un galeone pirata notai un particolare curioso gli alberi erano piegati chissà perché mi illustrai gli occhiali per vederci meglio e osservai il galeone si chiamava tesoro tirai fuori la mappa e lessi sotto la roccia a forma di cannone si trova il tesoro trappola prese la rincorsa e si tuffò dritto dritto nell'acqua cristallina è freddissima strillò nuotando ad ampie bracciate si aggrappò alla catena a cui era ancorato il galeone e ratto come un sorcio si arrampicò fin sopra poi calò una scaletta e così salimmo anche noi Thea annunciò ecco come torneremo a casa trappola e cionfolone provarono a recuperare l'ancora pesantissima Il galeone con gli alberi piegati si diresse come sospinto da una mano invisibile verso l'uscita della caverna guardai sotto nell'acqua e vedi delle grosse catene nascoste sul fondo che trainavano fuori dalla caverna il galeone con un meccanismo a molla il galeone uscì fuori dalla caverna e di colpo gli alberi si levarono come per magia erano collegati a dei cavi nascosti i miei amici corsero sotto coperta e presero le vele poi diressero la prua della nave verso il mare aperto issarono le vele il galeone scattò rapido come un cavallo di razza cionfolone si diresse verso il timone e propose piloto io? no! gridammo tutti noi in coro come un sol topo la prua del galeone veleggiava fiera con le vele gonfie del dolce vento dei mari del sud fissai l'isola toc flop a lungo finché scomparve all'orizzonte ormai ci trovavamo in mare aperto Thea prese subito il comando e organizzò la nostra squadra trappola tu sarai il cuoco cionfolone tu sei addetto alle vele io resterò al timone benjamin è nominato mozzo Geronimo cercherà gli strumenti per la navigazione mi diressi verso la cabina del pirata tutta foderata di legno intarsiato mi guardai attorno alle pareti erano appese sciabole e spade e anche un quadro a olio che rappresentava proprio lui il pirata zampa d'argento lo fissai perplesso aveva un'aria vagamente familiare strano emozionato aprì il cassetto del suo scrittoio quante carte ed ecco il diario di burdo indicava con precisione tutti i viaggi compiuti dal galeone tesoro tutti i porti che aveva visitato tutte le razzie che aveva compiuto oh quanto oro aveva conquistato ma dove era adesso tutto quell'oro mo continuai a consultare le carte del pirata infine trovai uno strano libro parlava del pirata e della sua famiglia sbarrai gli occhi possibile in una delle pagine era citato il nome stilton lessi ansiosamente scoprì che il bis 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 nonno del mio bis nonno era cugino del pirata zampa d'argento mi mancò il fiato incredibile presi il libro e corsi fuori per dare la notizia agli altri mentre uscivo lo sguardo mi cadde di nuovo sul ritratto del pirata ecco perché aveva un'aria familiare ovvio facevamo parte della stessa famiglia i miei parenti si mostrarono orgogliosi di avere sangue pirata nelle vene stavamo chiacchierando emozionati quando benjamin ci interruppe zio geronimo viene a vedere corsi da lui benjamin aveva appena finito di lucidare gli ottoni del galeone come brillavano parevano 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 sì parevano oro benjamin gridò eccitato guardate tutte le parti metalliche del galeone sono d'oro trappola svitò una vite e la levò verso il sole un raggio la fece brillare oro 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 squitti emozionato tutto era d'oro le maniglie delle porte i rubinetti le pentole persino l'ancora io mormorai ecco dove era nascosto l'oro del pirata ed ecco perché il galeone era stato chiamato tesoro era di un valore inestimabile io proposi di donare il galeone al museo nazionale di topazia a nome della famiglia stilton è un momento importante della nostra storia ed è bello condividerlo con tutti i roditori dell'isola le nostre radici sono molto importanti il nostro passato nel bene e nel male ci appartiene bisogna conoscerlo per conoscere meglio noi stessi la mattina dopo mi alzai e trovai i miei amici nella cucina del galeone trappola cucinava cionfolone si abbuffava più non posso buona la frittatina di uova di gabbiano con le alghe e la zuppetta di cozze vongole che delicatezza una vera ricetta pirata appena mi vide mi salutò sventolando la forchetta ciao fratello tuo cugino io abbiamo deciso che quando torneremo apriremo un ristorantino di pesce al porto a proposito vuoi assaggiare? no grazie risposi io sorridendo Thea intanto studiava le antiche carte nautiche del pirata per stabilire la rotta Benjamin corse dentro gridando zio geranimo nuvole nere all'orizzonte corremo fuori Thea mormorò preoccupata si sta proprio preparando una tempesta con i baffi e i controbaffi ammainammo le vele e le sostituimmo con altre più ridotte in modo che se il vento fosse aumentato la barca non prendesse troppa velocità poi chiudemmo tutti gli oblò perché non vi entrasse acqua durante la tempesta ci legammo alla nave con funi robuste per non essere sbalzati in mare trappola portò delle tazze di brodo caldo ci darà l'energia per affrontare la tempesta finimmo i preparativi appena in tempo era calata l'oscurità ora il vento soffiava furioso le onde erano altissime alte come una casa di sette piani il galeone navigava su e giù su e giù su e giù anche il mio stomaco andava su e giù e io ero verde come gorgonzola andato a male una vela si strappò e cionfolone saltò sul ponte dobbiamo ammainarla fratello mi asciugai gli occhiali bagnati di acqua di mare e lo segui la nave si inclinò paurosamente mentre un'onda spazzava il ponte tra le raffiche di vento udì i gridare attento fratello strisciamo sul ponte bagnato un centimetro dopo l'altro finché riuscimmo ad arrivare a prua finalmente ammainammo la vela ma il galeone si inclinò di nuovo in quel momento mi accorsi che benjamin stava scivolando in mare feci un balzo verso poppa e riuscì ad afferrarlo per una zampa il suo peso mi tirava giù sempre più giù stavo per scivolare anch'io in mare ma non mollai la presa gridai resisti topino non ti lascerò andare neanche a costo della mia vita una zampona pelosa mi afferrò per la collottola e mi tirò su anzi ci tirò su con forza c'è un folone ridacchio ve la siete vista brutta eh fratelli intanto la nave si era raddrizzata abbracciai forte benjamin il peggio è passato vedrai mia sorella Thea che reggeva saldamente il timone gridò il cielo si rischiara la tempesta sta passando le onde piano piano calarono e il mare ritornò calmo Thea batte la zampa sul timone ammirata questo galeone è una gran nave se ce l'abbiamo fatta è merito suo finalmente una mattina all'alba udì benjamin gridare terra eravamo ritornati sull'isola dei topi eravamo ritornati a casa tutti i roditori ci fissarono a bocca aperta ma quello è stilton sì geronimo stilton quella è la sua famiglia ma che è quel tipo anzi quel topo che rosicchia patatine vicino a loro ma è cionfolone incredibile gettamola ancora proprio davanti alla capitaneria di porto scendemmo a terra poi io annunciai doniamo questo galeone appartenuto al pirata zampa d'argento e il suo prezioso tesoro alla città dei topi tutti acclamarono urrà per la paniglia stilton volete sapere come andò a finire il galeone diventò uno splendido museo galleggiante dedicato alla storia dei pirati tutti gli abitanti della nostra città grandi e piccoli andarono a visitarlo soddisfatto ritornai in ufficio all'eco del roditore mi rivolsi ai miei collaboratori cari amici perché così vi considero sono felice di rivedervi dopo questa pericolosa avventura ve lo confesso sono commosso ne avrei da raccontarvi per poco non ci rimettevo la pelliccia non sono mai stato tanto felice di ritornare al lavoro parola di stilton geronimo stilton la caporedatrice certosina cashmere tossicchiò per attirare la mia attenzione geronimo c'è una telefonata per te io scossi la testa di che richiamino dopo pare che sia urgente io afferrai il telefono pronto qui stilton geronimo stilton e invece qui ha smamma cionfolone pussa via detto smamma ehi fratello guarda che arrivo sono già praticamente lì da te ne abbiamo di cose da raccontarci eh cosa 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 stai arrivando ma quanto ti fermerai lui ridacchiò come stai a formaggi quanto è fornita la tua dispensa fratello dipende solo da quello quanto mi fermo mamma non vede l'ora di conoscerti e ci sono anche i miei cuginetti cionciolone ciondolone ciochettone ciobattone ciofettone ciorciorone ciovolone ciospuzzone ciotolone ciopacchione ciozzellone e ciocopone ti ho portato un souvenir dalle isole piratesse marmellata di pipistrello sei contento fratello io non risposi non potevo rispondere ero svenuto cari amici roditori a risentirci al prossimo libro un altro libro coi baffi parola di stilton geronimo stilton ciofettone ciofettone Grazie.